Musica Oggi si celebra la giornata mondiale del rifugiato. L'agenzia dell'ONU parla di 110 milioni di profughi in tutto il mondo. Questa mattina nella chiesa parrocchiale di Pizzoletta, Verona, sono stati celebrati i funerali del sacerdote diocesano Don Giorgio Marchesini, era collaboratore dal 2015. Continua la testimonianza coraggiosa delle due gemelle gravemente disabili Caterina e Federica, sabato a Salizzole, sono state al centro di uno spettacolo principesse di inclusione. Buonasera Ben, ritrovati dal Tg di Telepace, oggi si celebra la giornata mondiale del rifugiato. Storie spesso tragiche di fuga da paesi in guerra o situazioni di persecuzione, persone dietro i numeri che sono aumentati a dismisura. L'agenzia dell'ONU parla di 110 milioni di profughi in tutto il mondo, trasfollati interni e rifugiati internazionali. Dopo il tragico naufragio di pochi giorni fa, rischia di tornare in silenzio. E c'è anche chi a Verona tutti i giorni lavora per permettere un'integrazione locale che dia dignità, l'esempio della Caritas veronese nel servizio di Lucio Fasoli. L'agenzia dell'integrazione dei rifugiati nelle comunità, è questa la parola d'ordine per la Caritas diocesana veronese, che tramite la cooperativa Il Samaritano, in questo stabile, in via Rosmini e in diverse zone di Verona, tra questi i quartieri Borgo Roma, Santa Lucia e Chievo, o in provincia come Acerro e Povegliano, dà ospitalità ai servizi di supporto ai numerosi rifugiati. Attualmente sono un centinaio e arrivano da paesi come Pakistan, Afghanistan, Iraq e diverse parti dell'Africa. L'idea è quella di dare accoglienza tramite l'aiuto delle comunità parrocchiali, che in questo modo possono fare esperienza di carità attraverso l'accoglienza. Questa idea nasce proprio dal fatto che ci sia un'apertura da parte delle comunità, che prevalentemente sono appunto di italiani, in un'esperienza di carità e di conoscenza reciproca di persone migranti provenienti da diverse parti del mondo. Preferiamo tendenzialmente accogliere le persone in spazi più piccoli, quindi appartamenti da magari tre, quattro, massimo cinque persone, proprio per fare sì che le persone migranti non siano dei numeri, ma sia possibile conoscerle per nome e cognome, con pregi, difetti, qualità e insomma come potremmo fare con un amico. C'è chi è arrivato tramite i corridoi umanitari, altri che arrivano dalla ruta balcanica o con i barconi, principalmente dopo aver trascorso mesi in Libia. Qui l'iter per ottenere l'esito dell'esame per la richiesta internazionale di protezione dura mediamente due anni. Nel nostro piccolo centro collettivo, dove attualmente sono accolte 12 persone, la giornata è strutturata tramite delle attività. Nel centro collettivo si svolge la prima fase dell'accoglienza. Forniamo per le persone che non possono ancora accedere alle scuole di italiano che ci sono sul territorio e che appunto esistono, tipo CPA, quindi centri per l'istruzione per gli adulti. Forniamo un servizio, grazie all'aiuto del servizio civile, di lezioni di italiano tre volte alla settimana. E poi piano piano da qui, quindi l'italiano, la costruzione del curriculum, l'inserimento lavorativo nel lasciare il curriculum alle varie agenzie di lavoro. e quindi passo per dopo passo, assistenza sanitaria dove c'è bisogno e quindi questo proprio per capire dove sei, dove ti trovi, di cosa hai bisogno per ricominciare a vivere la tua vita in un altro paese. E secondo Save the Children sono oltre 6.000 i minori migranti arrivati soli in Italia a via mare nei primi sei mesi dell'anno, il doppio rispetto all'anno precedente. Oltre 20.600 quelli presenti in Italia ad aprile, di cui 4.000 fino a 14 anni. Cambiamo argomento. Questa mattina nella chiesa parrocchiale di Pizzoletta, in provincia di Verona, sono stati celebrati i funerali del sacerdote diocesano Don Giorgio Marchesini. Era collaboratore dal 2015, sacerdote da 30 anni, la maggior parte dei quali passati come prete nella diocese d'impedia. Tanti i fedeli presenti. Ha presieduto la celebrazione Monsignor Giuseppe Zenti, vescovo emerito di Verona. Sentiamo un passaggio dell'Omedia. Gesù è la via, la verità e la vita. Non c'è nessun'altra via, verità e vita. Lui è la pienezza. Da questo punto di vista pensiamo a Don Giorgio, che ha vissuto il suo sacerdozio per insegnare a tutti che Gesù è la via, la verità e la vita e che noi oggi pensiamo essere in paradiso. Ed è arrivato il momento di passare da questo mondo al Padre anche grazie a questa vicinanza, quindi con maggiore serenità all'animo. Grazie quindi anche alla sorella e ai suoi familiari. Lo pensiamo quindi anche tra le braccia del Padre, perché alla fine, guardate, la vita può essere travagliata finché si vuole. Può avere tutte le connotazioni che si vuole, ma alla fine è la fede in Cristo che ci salva. Non importa se avremo tanti soldi che non servono a niente perché nessuno se li porta via. Non importa se avremo avuto tanto potere, tanta gloria, perché tutto passa. Ciò che serve è di dire ho fede in Cristo, Lui è il mio Salvatore. È stata presentata a Perugia la credenziale del pellegrino per gli anniversari francescani. La versione straordinaria del documento di viaggio del pellegrino della Via di Francesco. Nel 2022 sono stati più di 8.000 pellegrini da oltre 50 nazioni del globo. E dunque oggi la presentazione in Umbria e nell'edizione speciale della credenziale che celebra il grande centenario francescano scandito in quattro anniversari francescani che ricorrono nel triennio 2023-2026. L'ottavo centenario della regola francescana e del Natale di Greccio. L'ottavo centenario dell'impressione delle stimmate sul monte della Verna. L'ottavo centenario del cantico delle creature e quello della Pasqua di Francesco. Il suo passaggio alla vita eterna avvenuto la sera del 3 ottobre 1226 ad Assisi. È partito a San Giovanni Lupatotto lo sportello Abitare. Un servizio dedicato a chi fatica a trovare soluzioni abitative sul mercato libero. Tra qualche mese partirà anche il progetto Abitare Garantito. Vediamo di cosa si tratta. Per contrastare la carenza di appartamenti in affitto, problema che esiste in diverse città d'Italia e che si fa sentire anche a Verona, alle porte della città nel comune di San Giovanni Lupatotto è partito pochi giorni fa lo sportello Abitare, a sostegno di singoli e famiglia alla ricerca di un appartamento in affitto. L'amministrazione ha già dato diverse risposte, cittadini in difficoltà, in particolare a 221 domande per un importo di quasi 100.000 euro per sostenere il pagamento di canoni di locazione e mutuo. È stato dato sostegno anche con 300.000 euro a 567 domande per richiesta a sostegno, pagamenti di bollette, luce e gas. Si inserisce una serie di misure che la nostra amministrazione già da qualche tempo ha varato. Ricordo ad esempio il cambiamento del regolamento della casa albergo con l'introduzione di forme di co-housing, la ristrutturazione di 10 appartamenti della stessa casa albergo, una stretta collaborazione con ATER e poi anche una serie di bandi che ripetiamo annualmente che vanno a sostenere le persone nel pagare le utenze, così come gli affitti e i mutui. Lo sportello abitare è partito pochi giorni fa, gestito da energie sociali, che ha molta esperienza nel settore e riceve il suo appuntamento tutti i giovedì pomeriggio dalle 13 alle 18 in municipio. Ci rivolgiamo principalmente a quella che viene definita fascia grigia della popolazione, ovvero quelle persone che hanno una capacità reddituale di poter far fronte alle spese di un affitto ma che incontrano una serie di difficoltà nell'accedere al mercato dell'allocazione. Pensiamo alle famiglie mononucleari con un reddito solo, quindi famiglie con bambini, famiglie numerose che non riescono a trovare nel classico canale del mercato allocativo un accesso appunto alla casa. Questo è dovuto a tanti motivi, le esigenze economiche di famiglie che vendono gli appartamenti prima in affitto, anche la presenza di famiglie con bambini purtroppo crea diffidenza e gli aumentati B&B per turismo. Con lo sportello si vuole entrare in contatto con il territorio per dare consulenza e sostegno. Che poi si trasforma anche per le persone che hanno più necessità di un accompagnamento vero e proprio nella ricerca della casa, non solo, ma anche poi nella stipula successiva di un contratto e una volta raggiunto questo obiettivo anche nel monitoraggio della conduzione stessa. Viste le grandi esigenze, entro fine anno il Comune di San Giovanni vuole partire con il progetto Abitare Garantito, in cui il Comune si fa sostegno e garante di chi potrebbe avere problemi e sostenere il pagamento dell'affitto. Continua la testimonianza coraggiosa delle due gemelle gravemente disabili Caterina e Francesca. Sabato a Salizzole sono state al centro di uno spettacolo Principesse d'Inclusione. Vediamo. Una serata in Piazza Castello a Salizzole in provincia di Verona per uno spettacolo di musica e danza che ha visto la partecipazione di Caterina e Francesca Santin. Due gemelle con gravi difficoltà fisiche che attraverso la Scuola dei Talenti hanno fatto della loro disabilità un punto di forza e un'occasione di coraggio da diffondere in tutta Italia. Siamo riusciti in un sogno e questa è la cosa più bella. Il messaggio era sensibilizzare e divulgare il bene prezioso della disabilità. Caterina e Francesca con il loro viso hanno espresso la gioia di questo grande momento e direi forti ma forti emozioni di quando Caterina e Francesca hanno danzato quel corpo di ballo si è sciolto il pubblico. Durante la serata benefica le due gemelle hanno danzato sulle note di Elvis Presley in un video la presentazione del loro progetto che supera la disabilità verso una vera inclusione. Ciao, siamo Caterina e Francesca e grazie alla complicità di mamma e papà siamo riusciti a lanciarvi questo nostro messaggio. Siamo nate nel 2002 e fin da piccole abbiamo capito che non importa la situazione in cui ci troviamo quel che conta è valorizzare la nostra vita al meglio delle nostre possibilità. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla nostra famiglia che ha creduto in noi e ci aiutate a credere costantemente nei nostri sogni. Caterina e Francesca hanno 21 anni la scuola dei talenti è nata dalla materna di Salizzoli con il sostegno della FISM e di un gruppo aziendale. L'evento non era la fine ma sarà un inizio di tanti altri eventi infatti occasione per invitarvi anche voi il giorno 30 giugno venerdì alle ore 21 al Teatro Romano faremo un altro evento in collaborazione con la Fondazione Toniolo e l'Orchestra Sinfonica del Veneto. Perché comunque la serata di questa sera ci fa capire tante cose ci fa capire cosa sono i progetti di inclusione cosa vuol dire mettere a servizio la propria famiglia per altre famiglie in difficoltà come ha fatto la famiglia Santin. Facciamo perché ci piace la musica fa parte del nostro mondo però ha uno scopo preciso aiutare gli altri più deboli, più fragili. L'idea di essere utili per gli altri è stata veramente un'idea straordinaria che Sergio ha saputo coltivare giorno per giorno. Termina qui il Tg di Telepace grazie per essere stati con noi e buona serata. Grazie a tutti.